Mi fai gli auguri per il compleanno? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a non so come ti chiami, tanti auguri a te. Ecco, t'ho fatto gli auguri del compleanno. Mi racconti una poesia? La poesia non... Ehi fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro. Così percossa e attonita la terra all'unzio sta, muta, e poi non mi ricordo. Mi racconti una battuta? Fammi una battuta. E che battuta ti faccio? Una battuta. Lo sai perché i pesci hanno le spine? Perché nel mare c'è la corrente. E sta... Fa sempre fatto ride. E' carino. Dice, ma a che serve la naturalezza? Non bisogna essere naturali, ho visto su un video, no? Bisogna cercare di... Non la verità, ma una sorta di veridicità. Essere naturale è una cosa sbagliata. Ma com'è sbagliato? Essere naturale è una cosa ovvia. Nella recitazione, termine, diciamo, nel gioco, nell'acting. È normale, devi essere naturale. Nell'essere naturale, tanti auguri, eh. Mentre uno canta o mentre fa qualcosa, recita una poesia. È chiaro che poi metterà in gioco, in maniera automatica, quelle che sono le sue esperienze, le sue abilità. Se mi canta gli auguri Phil Collins, anche se lo fa un briaco con 39 e mezzo di febbre, comunque è Phil Collins che canta. Grazie. Grazie. Grazie.